Un libro su cui tutti vorrebbero dire qualcosa. Goffredo Foffe ha descritto così l'ultimo lavoro di Luca Rastello, I Buoni, presentato nell'Independent Corners. È un momento in cui molte cose vengono rimesse in discussione, perché il Berlusconino è finito, perché siamo nella merda fino al collo dal punto di vista politico e non sappiamo come uscire, e siamo nella merda fino al collo anche come operatori, come educatori, come militanti di base, non so come ci vogliamo per noi. Chiare Lettere pubblica questo lavoro di Rastello che racconta la vita di tutti i giorni di operatori sociali e organizzazioni, ma lo fa restituendo al lettore un mondo poco noto. Rastello racconta delle associazioni che, nate per contestare il sistema attuale, poi, secondo lui, ne sono diventate l'avanguardia. Nel libro si raccontano solo le cose, ma molte delle reazioni, anche quelle più furibonde, per esempio Nando dalla Chiesa, ma anche Caselli, dicevano ma lo sanno tutti che queste cose avvengono ovunque, ma non bisogna dirle, perché sennò danneggiamo le organizzazioni.